e cos'è che posso dire boh? niente mi sono divertita questo tempo che sono stata qua al festival vabbè dare tutti i giorni volantini così e niente è stata una bella esperienza ciao ciao Giuliano niente mi sono divertito tanto e vabbè niente sai com'è la cosa eh niente ciao ciao un bacio ciao 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 la posta degli attrezzi la posta degli attrezzi che non possiamo smontare ciao